Bene approdati nuovamente sul mio canale e bene approdati sul mio canale per la prima volta per quelli che hanno aperto questo mio video come primo. Così come ho fatto un episodio dedicato a WICON ho deciso di fare un episodio anche dedicato agli ultimissimi saldi KIKO, quelli degli ultimi giorni, quelli dove si trovano le chicche, le chicche più succulente con gli sconti più alti e quindi andiamo a incominciare. Allora ho fatto una scorsa sul sito di KIKO per vedere quali fossero i prodotti ancora in sconto e ne ho trovati diversi che mi sembrano molto molto interessanti e che vorrei andare a consigliarvi. Alcuni sono anche in linea permanente ma attualmente sono stati messi in sconto e sono assolutamente da non perdere come ad esempio questa palettina qua che fa parte della linea SMART ed è una piccola palette viso. La Contouring Palette, io la numero 01, contiene una terra di una bella tonalità neutro fredda che ancora io riesco ad utilizzare come contour ben intensificata nonostante è vero ad intarella e poi questa polvere luminosa solo leggermente satinata come vedete che può essere utilizzata tranquillamente come illuminante da tutti i giorni diciamo. Io l'ho usato sotto l'arcata sopraccigliare in questo caso e anche proprio come illuminante sugli zigomi, sul naso. come faccio insomma di solito per un look più sobrio e più naturale. Le polveri sono setosissime, sottilissime, io non me lo sarei mai mai aspettato. Si sfumano benissimo e questa non sbianca così tanto come pensavo perché una volta ben sfumata come vedete risulta solo la luminosità. Quindi sicuramente questa è una chicca da non perdere. Costa già poco di suo perché mi sembra che stanno su 10,90€, adesso che è in sconto poi. Che ve lo dico a fare? Altra cosa assolutamente interessante da non perdere sono i mascara di Kiko. Perché, devo dirvi la verità, io con i mascheri di Wagon non mi sono mai mai trovata bene. Ne ho provati tanti ma bene che è andata senza infame e senza lode. Invece Kiko è abbastanza forte per quanto riguarda i mascara e voglio segnalarvi questi quattro che sono tra i miei preferiti e tra quelli che ho sempre ricomprato. E adesso sono tutti in promo a 3,99€, quindi oltre ai prodotti in saldo che ora non vengono più nominati sul sito come prodotti in saldo ma trovate tutto nelle promozioni, anche quelli delle collezioni passate. Quindi sono state segnalate esclusivamente come promozioni. Ma era il testo di sardi che proseguono. Dunque, come prima cosa vi vado a segnalare questo mascara qua. Quello che ho io è della Ocean Fill. Il pack è perfettamente identico a quello della Unexpected Paradise che è la collezione estiva di quest'anno. Quindi identico alla collezione estiva dell'anno scorso. E anche il concept è totalmente lo stesso. Perché è un mascara con lo scovolino doppio. Non nel senso che ha due scovolini. Ma lo scovolino è modificabile. Quindi abbiamo uno scovolino fatto in questo modo che è ottimo per separare bene ed allungare le ciglia e pettinarle molto bene. Quindi lungo con le sedoline in silicone. Poi si può girare, si fa un twist. E la forma dello scovolino cambia e diventa uno scovolino a spirale più cicciotto che va a dare un bel volume. Ed è quello che indosso adesso. Assolutamente niente male. E quindi vi consiglio di non farvelo scappare. E sono contenta che lo abbiano rifatto anche nella collezione estiva di quest'anno. Così chi lo ha perso l'anno scorso se lo può accattare adesso. E accattatevi il 3,99 e rigalato. Ma questo non se li fa più mascare 3,99. Non troppo. Poi un mio cult è ovviamente il Maxi Mode. Che è un mascara versatilissimo che è utile per ottenere molteplici tipologie di effetti nonostante abbia questo scovolino che come dico sempre io ogni dai due spicci perché è microscopico con delle sedole cortissime e neanche tanto fitte però permette di andare a prendere bene tutte le ciglia di pettinarle, allungarle dare un bel volume alla base ed andare a truccare per bene le ciglia inferiori. Questo non deve mai mancare perché io lo trovo toppissimo per andare a dare un pump a tutti quei mascara che sono un po' meh. Io ci ho risollavato la situazione di diversi mascara di questo genere. Altro mascara che compro e ricompro da anni fa parte della linea dei top coat di Kiko questo con l'astuccino viola dovrebbe essere eccolo qua è il volume top coat mascara quindi un mascara che va esclusivamente ad aumentare il volume e lo fa davvero benissimo. Lo scovolino è veramente particolare perché è fatto un po' a palletta ed è veramente un prodotto valido. Questo ce l'ho sempre nella collection appena finisce lo vado a ricomprare e lo tengo sempre lì a portata di mano perché è uno di quei mascara che mi vanno a tirare su un mascara un po' sfigatello così come il Maxi Mode. Vinto. Ultimo mascara che voglio consigliarvi è l'om... questo mascara qui leggerete voi esiste in tre diverse versioni compresa credo anche quella waterproof o aggiunta anche quella waterproof il mio preferito è questo ha lo scovolino a tre pallette va a prendere bene tutte le ciglia e a dare bel volume e lunghezza il volume soprattutto aiutato dal fatto che contiene fibre e io ho un fetish veramente pazzesco per le mascare che contengono fibre li amo perché perlomeno sulle mie ciglia danno veramente un bel effetto volume che non trovo con altre mascara volumizzanti viva le fibre andiamo oltre e proseguiamo con le altre chicchette che vi consiglio di prendere passiamo a un altro mio fetish del periodo che sono i gloss amo follemente i gloss c'è stato un periodo in cui va de retro satanasso solo ed esclusivamente rossetti liquidi ora è tantissimo che non uso più rossetti liquidi forse giusto adesso che diciamo siamo in questo momento in cui ancora si porta parecchio la mascherina allora il rossetto liquido a lunga tenuta mi scongiura dal ritrovarmi la sindone all'interno della mascherina stessa e un picasso sulla faccia e quindi sto utilizzando di nuovo rossetti liquidi soprattutto quelli di Huda Beauty e di Astra che sono quelli con cui per questo tipo di problematica mi sto trovando meglio in assoluto e compresi anche quelli di Maybelline come gli Stay Matte che sono indelebili praticamente neanche con le bombe a mano li levi però i gloss li amo in quelle situazioni in cui posso fare meno della mascherina o portarla molto poco mi piace tantissimo portarli questi sono due gloss di due collezioni limitate questa è della Cecilia Note che è quella autunnale dello scorso anno si trova ancora sul sito e credo anche bene negli store ed è scontato ora non ricordo a che prezzo forse tipo addirittura al 50% la colorazione che ho io è la numero 01 ed è un bellissimo rosa peach veramente veramente un bellissimo colore che è una bella matita nude questo fa un effetto plump alle labbra che amo tantissimo quindi questi qui ve li consiglio e stesso pecca ma cambia tutto il tappo questi sono quelli dell'Unespected Paradise e mi piace tantissimo completamente zeppo di glitterini bellissima anche la colorazione è quello che sto indossando al momento e dà veramente un bel effetto labbra belle polpacchiose ed è in una sola referenza quindi è questo o ve comprate questo o ve buttate dalla finestra o non ve lo comprate per quanto riguarda la matita invece ho utilizzato su tutte le labbra quindi non solo per il contorno una delle matite della Sicilian Note sono delle matite veramente ottime consentono di fare un bel contorno labbra ma nonostante tutto sono così burrose fondenti che possono essere stese tranquillamente su tutte le labbra senza dare problemi di secchezza o di fastidio hanno una buona pigmentazione questa nuanza è la mia preferita e ho visto che è stata rimessa in stock perché tra le matite in saldo c'era ed è la numero 03 non fatevela scappà perché è davvero bella come colore questo colore mattone chili stupendo andiamo avanti con le labbra e vi segnalo anche i rossetti della Sicilian Note non mi era piaciuta quella collezione per niente e sono questi rossetti qua una parte è un normalissimo lipstick o un gloss ad alta pigmentazione come lo si voglia dire questa è matt liquid lip color ah ecco questa è la parte shiny shiny liquid lip color e questa invece è quella matt le potete usare sia insieme che separatamente la colorazione è sempre la 03 quindi la stessa della perdone della matita e il rossetto liquido quello che si fissa ha una formulazione niente male e il rossetto shiny mi piace veramente un sacco devo dire aggrappa bene alle labbra pur essendo shiny e la colorazione è bellissima quindi dateci un'occhiatina terminiamo con la Sicilian Note vi vado a segnalare gli ombretti liquidi duo allora per quanto riguarda questi ombretti devo dire che io ne ho presi due uno è stato un flop pazzesco pauroso e l'avete visto già in diversi video mi è dispiaciuto un sacco perché è un colore bellissimo questo invece è quello secondo me che performa meglio in assoluto io ho utilizzato la parte matte come base per il mio makeup quindi su tutta la palpebra poi sfumata nella piega si sfuma benissimo rimane bello omogeneo ha un'ottima durata anche la parte luminosa non è affatto male rispetto a quella dell'altro che ho preso sono venuta a sapere che anche quello lilla io ho preso quello sul verde anche quello lilla stateci alla larga è una formulazione in mousse metallica e specchiatissima veramente molto bella vedete anche sfumandola questa non perde non perde neanche di luminosità l'altro invece tremendo quindi se volete prenderne uno vi consiglio questo senza alcuna ombra di dubbio tra l'altro stanno tipo a 3,90 euro una cavolata vi consiglio di bypassare sia quello lilla che quello verde lasciate listà altri due prodotti che sono in permanente con cui mi sono trovata troppo troppo bene uno è il pot per le sopracciglia spettacolare questo ormai è indirittura d'arrivo purtroppo mi si è seccato perché l'ho lasciato da parte veramente per troppo troppo tempo per testare altri prodotti e me ne dispiaccio tuttavia ancora è utilizzabile voglio vedere se riesco a ravvivarlo un po' con la soluzione unica per le lenti a contatto farò una prova io lo sto continuando ad usare finché riesco perché mi dispiace troppo buttarlo visto che è un prodotto estremamente valido e adesso è in promozione poi ci sono in promozione anche i blush della linea smart tra i blush che ci sono in promozione l'unico che io possiedo e vi posso consigliare è questo il numero 12 ve l'ho fatto già vedere in altri video è un colore veramente molto molto singolare che è una sorta di bordeaux con una bella percentuale di grigio io trovo che sia un prodotto adattissimo per l'autunno inverno sono dei blush ad alta pigmentazione con una buona sfumabilità e anche modulabilità del colore perché io l'ho utilizzato qua come blush ma come vedete l'ho potuto sfumare fino ad ottenere la tonalità abbastanza chiara insomma che cercavo quindi questi ve li consiglio tantissimo costano una cavolata e adesso penso vengono intorno ai 4 euro ora che sono scontati no di meno di meno di 4 euro ora che sono scontati perché stanno tipo 5,90 a prezzo pieno quindi saranno meno di 4 euro sicuro vale la pena dare un'occhiata ci sono 5 colorazioni in sconto come altro prodotto vi consiglio le matite le matite occhi di Kiko sono quasi tutte validissime queste sono in modo particolare sono della collezione natalizia questo mi sembra che è di quella natalizia di quest'anno ma ce ne erano anche in quella dell'anno scorso e sono state rimesse di nuovo in sconto e questa quest'esatto colore c'è ed è bellissimo perché è un nero stupendo è quello con cui ho fatto l'angolo esterno dell'occhio facendo un eyeliner che poi ho sfumato ai bordi sono matite che sono piuttosto morbide danno poco tempo per essere sfumate perché poi asciugano quindi si sfumatele rapidamente perché poi si fissano e restano là fino alla morte anche Stefania l'ha presa e sono curiosa di vedere come ci si trova perché lei ha la sua eterna lotta con la matita nera ideale che non le cola nell'angolo interno dell'occhio e non solo perché lei ha una lacrimazione piuttosto accentuata e quindi non riesce ancora a trovare una matita nera che la soddispi spero che questa ci riesca o da una parte anche no perché è una limited e quindi chissà quando la rimetteranno comunque adesso in sconto ci sono fateci una capetina prendetela questa nera come vi ho detto l'ho usata all'angolo esterno mentre invece questa color champagne che è luminosissima l'ho usata nella rima interna e guardate che bomba io sono già due tre ore che sono truccata ed è ancora lì nella rima ciliare inferiore interna che è umida valgono la pena ultimo prodotto sempre per gli occhi anche di questo sono contenta perché è stata una mia scoperta dello scorso anno sono felicissima che l'abbiamo rimesso in sconto ed è questo ombretto qua che io ho soprannominato l'oro di Klimt ed è quello che porto qua guardate molto bene sotto la luce che bomba che è e non l'ho bagnato perché se lo bagnate sbabeum la linea è magnetic impact eyeshadow questo è il numero 106 memorizzatelo perché un oro così io non l'ho trovato da nessuna parte non ce l'ha veramente in nessuna delle palette che possiedo ed è un oro di quelli che non passano inosservati e vi danno subito una botta di vita al look che davvero sembra che si accade di fatto e invece è un semplicissimo smoky nero e oro cioè l'ho fatto prendere anche a Betty che non ha preso l'oro in particolare ha preso uno champagne e una rame mi sembra assolutamente spettacolari anche lei ne è rimasta folgorata quindi chicca assolutamente da non perdere tra l'altro adesso stanno proprio a pochissimo non so se boh forse neanche arrivano a 3 euro 2 euro e 50 1 euro e 50 addirittura forse date un occhio sul sito perché li stanno regalando e anche negli store ultimo prodotto in assoluto non trovate nello specifico questo fondotinta con questo pack ma i fondotinta che fanno nelle collezioni estive sono tutti uguali stessa formulazione stesso pack stesso finish so questi regà c'è anche nella collezione estiva di quest'anno che è l'unexpected paradise questa è della ocean fill che è quella dell'anno scorso comunque sono dei prodotti estremamente validi con un spf 50 quindi ottimo per l'estate io purtroppo ho preso una collezione 01 fair quindi adesso che sono abbronzata non lo posso più utilizzare lo terminerò una volta sbampata dall'abbronzatura spero più tardi possibile ma questo vi consiglio se non avete mai provato questo tipo di prodotto di Kiko provatelo perché è veramente veramente valido si conclude qui finalmente questa carrellata infinita di chicche di Kiko io non so fino a quanto dureranno queste promozioni ma mi fa ben sperare il fatto che le abbiano inserite in una categoria a parte con la dicitura promozioni che le possano portare avanti magari anche fino a fine settembre o qualcosina di più come già accaduto in passato io vi consiglio comunque di appuntarvi carta e penna a tutto quello che ho detto nel video e andare a spolciare il sito magari fare un giro negli store per accattarvi le chicche che più vi aggradano quindi con la speranza di esservi stata utile o di avervi quantomeno fatto un po' di compagnia io vi saluto vi si ama tutti quanti e ci vediamo al prossimo video miau miau ciao 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 ciao